Brigantaggio e brigantesse, tratturi, umanità varia della gente e dei tratturi, la storia senza redenzione dell'unità d'Italia nel mezzogiorno. Per riassumere il tema del simposio RIPA 2022, Terroni la riscossa del Sud, edizione numero 11, in svolgimento dal 18 al 20 agosto, basterebbero queste anticipazioni. Se non fosse che ci sarà molto di più, come ha spiegato il direttore artistico di simposio RIPA Gianni Manosacchio durante la presentazione. È un progetto di ampio respiro, Santo Stefano, Boiano, Oratino, non abbiamo paura di metterci insieme, quella è la soluzione, noi monolisani siamo troppo montanari in questo, mettiamoci insieme perché sono sicuro che insieme valiamo il doppio e non la metà. Transumanza culturale, aperitivo terrone, aperitivo del brigante, incontri con scrittori e antropologi, proiezione del cortometraggio Tre Briganti a Campobasso, performance teatral musicali, gli appuntamenti in cartellone della Tre Giorni è di tutto rispetto. Un modo per ricordare che il Sud è ricchissimo di storia e ha un patrimonio di ricchezze umane e materiali che dovrebbero far fruttare bene e meglio, smettendola di rimpiangere il paradiso perduto ante Unità d'Italia. Lamentarsi ci viene molto facile, diciamo che l'essere umano tende molto a lamentarsi, ci vuole anche, cioè il lamento è anche un modo per rielaborare quanto sta accadendo, però una volta che ci siamo lamentati, ok, rimbocchiamoci le maniche e facciamo quello che c'è da fare, perché la situazione come abbiamo detto prima la conosciamo benissimo. Chi può fare, ok, dall'alto la politica, lo Stato, le regioni, provincia, comune, ok, però il singolo cittadino, forse, se si unisce, se si mette veramente insieme, riesce a fare molto di più, anche perché dalla sua alle leggi che lo Stato ha istituito che possono aiutare a realizzare i vari progetti che ognuno di noi ha in mente di realizzare. È la cultura il motore che può fare la differenza e dare un'occasione ai giovani per investire nel loro futuro, anche ai giovani molisani. Se noi vogliamo possiamo, perché le risorse ce le abbiamo, risorse non per forza oggi già disponibili dal punto di vista economico, ma abbiamo le risorse sia umane e sia naturali. Grazie a queste possiamo lavorare e sfruttare, partire da queste per crescere e per veramente raggiungere dei livelli socio-economici tipici delle regioni più sviluppate di noi, che per carità non hanno niente rispetto a noi, hanno avuto solo l'idea e la volontà di farlo.